Federico Marconi, giornalista del Domani, tu hai scritto insieme a Davide De Pascale un articolo molto informato, molto approfondito su questo maxi-evento che la Ministra del Turismo Sant'Anché ha organizzato a Baveno, sul Lago Maggiore, in un albergo di lusso. Di che si tratta? È stata la prima edizione del Forum Internazionale del Turismo, chiamato Open, gli Open della meraviglia, riprendendo la campagna con la Venere di Botticelli, che ha tanto fatto discutere quest'estate, è stata una vera e propria passerella per il governo che ha partecipato in massa al forum voluto dalla Ministra Sant'Anché, che è costato molto il budget stanziato a noi domani risulta essere stato superiore al milione di euro, non siamo riusciti ancora ad avere tutte le sponsorship, però solo Enit, l'Agenzia del Turismo, che è anche quella per esempio che ha pagato la campagna con la Venere, ha messo almeno 500.000 euro. tra gli altri grandi e importanti finanziatori, poi c'è la Regione Piemonte, con Cirio che ha ospitato nella sua regione, a Baveno, sulle rive Piemonte e Lago Maggiore e L'Evento, ha messo circa 300.000 euro, e poi ci sono altri partner, tutti ovviamente enti pubblici, da ACI a Trenitalia, a Poste, che dovrebbero aver messo tutte sponsorizzazioni a 6 cifre, quindi è stata una manifestazione importante a cui ha partecipato praticamente tutto il governo, la seconda carica dello Stato. Hai citato una serie di finanziatori, nell'articolo sul domani avete parlato anche delle ferrovie dello Stato, c'è la vicenda del treno, di Lollobrigida, le ferrovie hanno dato dei soldi e poi i ministri, quali ministri hanno partecipato? Sì, anche Ferrovie risulta tra gli sponsor della manifestazione, ha partecipato anche un delegato a uno degli eventi sulla mobilità, hanno partecipato tutti i ministri, quasi tutti i ministri del governo di Giorgia Meloni, a partire da Lollobrigida è stato uno dei primi ospiti, ha partecipato Giorgetti, il ministro dell'economia, ha partecipato a Bodi, il ministro dello sport, San Giuliano della cultura, Urso e così via. C'è stato anche un cappello istituzionale con la presenza dell'amico, della ministra Santanchè, il presidente del Senato, Ignazio Larussa. E' stato un evento in pompa magna e a dire il vero c'è stata una grande assente, annunciata ma poi ha partecipato solamente con un videomessaggio, è stata Giorgia Meloni, il che insomma anche tra gli ospiti del festival ha lasciato un po' sorpresi, insomma era un evento molto importante, il governo ci ha messo la faccia anche per numero di presenze e l'assenza di Giorgia Meloni, l'assenza fisica di Giorgia Meloni è stata un'assenza rumorosa. Una presenza senza perché è avvenuto in videoconferenza, ma questo evento mi sembra il primo con tanta magnificenza che fa Santanchè dopo tutte le polemiche per le indagini in cui anche si è indagata per falso in bilancio sul gruppo Visibilia e le altre sue attività. Quindi questo evento più che per il turismo sembra un evento per Santanchè, per rilanciare Santanchè? Qual è la tua impressione? Sì, è stato assolutamente un evento per dare forza alla Ministra che dopo le inchieste giornalistiche di quest'estate, uscite sia sul report che sul domani, le interrogazioni parlamentari, le indagini della procura, sul gruppo della Ministra, su Visibilia, avevano minato fortemente la sua immagine, di un ministro comunque forte che gestisce un ministero che si occupa di attività economiche che riguardano direttamente il 5% del PIL, indirettamente il 13%, si parla di miliardi di euro. Un'assenza importante sicuramente, oltre a quella di Meloni, che era prevista, ma un'assenza forte è stata quella della Ministra del Lavoro, Calderone, cioè si è parlato di turismo che ha un indotto importante e che da lavoro a tantissime persone mancava la Ministra del Lavoro, mancavano i sindacati, mancavano le associazioni dei lavoratori e penso che questo sia una grave mancanza. Un settore che crea un indotto così importante per lo Stato e per l'economia italiana merita sicuramente una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori, che mancano sempre. Nel suo intervento video, la Presidente Giorgia Meloni, invece di, insomma, quando ha parlato di mancanza di lavoratori, invece di parlare di politiche che portino una maggiore dignità nel lavoro dei lavoratori del turismo, che spesso sono stagionali e spessissimo sono precari e spessissimo sono sottopagati, ha dato la colpa all'assistenzialismo dello Stato. Quindi anche in questo senso è stata chiara la politica, la concezione che il governo ha dei lavoratori, non solo quelli del turismo.